Buongiorno mister, Andrea Presenzone, Juventus TV. Anche l'ho chiesto come sta il gruppo, a lei chiedo su quali insidie potenziali state lavorando maggiormente in vista ovviamente di una doppia partita e non solo singola. È una semifinale di Europa League contro una squadra che ha vinto quattro volte l'Europa League e due volte la Coppa UEFA, quindi è una società, una squadra che è abituata a giocare questo tipo di partiti, è una squadra esperta, una squadra che non esce mai dalla partita e quindi domani sera ci vorrà una bella partita come poi bisognerà fare dal ritorno, però intanto pensiamo a quella di domani sera. Buongiorno Gianni Balzarini, Mediaset, una domanda più a largo raggio. Ti chiedo, quando sono uscite le motivazioni del Collegio Abitrale del CONI? Tu hai pensato all-in sulla Europa League nel senso magari campionato, turn-over e giocatori migliori per giocare questa manifestazione oppure provo a vincerle tutte e poi vedo alla fine cosa succede dal momento che eventualmente la penalizzazione dovrebbe essere inferiore ai 15 punti? Io non so cosa succederà, a parte che noi ormai abbiamo talmente una corazza che non ci sposta più niente perché comunque è tutto l'anno che un giorno è bianco, l'altro giorno è nero, poi diventa giallo, poi diventa verde, poi diventa rosso tutti parlano, tutti sanno tutto, quindi noi anche da questa esperienza ne riusciamo fortificati. Noi abbiamo queste partite di Europa League e le altre quattro campionato, noi sul campo come abbiamo sempre detto bisogna fare il massimo, il massimo vorrebbe dire cercare di arrivare in finale di Europa League e quindi è il prossimo passo e poi visto che ci siamo guadagnati il secondo posto sul campo dobbiamo mantenercelo, quindi su questo dobbiamo lavorare e poi in fondo all'anno al 4 giugno quando finirà il campionato noi quando abbiamo fatto questo abbiamo fatto il nostro. Un pomeriggio, mister giovane albanese Sport Italia, la riporto sul campo, le chiedo come ha visto Kostic se è più brillante in allenamento e se domani può partire dall'inizio, grazie. Tutta la scuola sta bene, ieri abbiamo fatto un bel allenamento, le gambe stanno bene, girano bene quindi domani anche nelle scelte per me sarà molto difficile, però anche domenica quelli che sono entrati 20 minuti, in quarto d'ora, 10 minuti hanno comunque dato aiuto ai compagni e infatti Vlauvi ci ha fatto gol su Assess di Chiesa, sono messi subito a disposizione e domani sarà lo stesso, chi scenderà in campo ma quelli che vengono in panchina saranno ancora molto più importanti perché nel momento decisivo della partita possono cambiarla, poi uno può giocare a 60 minuti, uno 70, uno 30 l'importante è che siano decisivi. Buongiorno mister Filippo Monsignore, Corrierello Sport, le chiedo se è una partita da tridente questa oppure serve un altro atteggiamento, grazie. Serve l'atteggiamento che abbiamo avuto domenica a Bergamo con il Lecce e a Bologna sapendo di affrontare una squadra comunque che ha vinto tanto e che ci vuole grande rispetto. Buongiorno mister Alberto Maro, il messaggero di Juventus News24 Volevo chiedere se negli ultimi giorni ha avuto modo di parlare e confrontarsi con Vlauvić e secondo lei se dal punto di vista mentale ha risentito dei fatti di Bergamo, grazie. Non ci ho parlato, io credo che, come ho sempre detto, sarebbe bello, capisco che per i ragazzi non è facile quando vengono insultati con forme di razzismo, ma sarebbe bello ignorare, avere la forza di ignorare e poi chi di dovere punire. Fabiana della Valle, Gazzetta dello Sport, è una partita da difesa 3 o da difesa 4 quella di domani? È una partita da difendere in 3, difficile difendere perché prendiamo gol e quindi bisogna difendere in 10, anche in 11 perché quando c'è da difendere, quindi domani bisogna prepararsi al meglio, soprattutto sapendo quali sono i loro punti di forza perché hanno giocatori tecnici e noi bisogna sfruttare al meglio quelle che sono le loro debolezze. Quindi sarà una partita difficile, complicata perché è una semifinale. Salve mister, Odenino La Stampa, Di Maria al suo fianco, ci dica cosa le chiederà per domani, quale sarà il compito di Di Maria, oltre a quello di far gol, immagino, visto che in Europa League ne ha fatti parecchi, grazie. Anche domani, domani sarà già per conto su cosa deve fare, un giocatore si fa tutto che nelle partite secche, nelle partite dove c'è bisogno del risultato, della prestazione importante, Ange è stato sempre presente, ma parla la sua carriera. Buongiorno mister, Michal Brokowski, Via Play Polonia. Arkadio Schminick è arrivato in squadra in estate, hai lavorato con lui per quasi tutta la stagione. Come è entrata in squadra? Che caratteristiche di aria ti piacciono? Ti ha sorpreso in qualche modo? Non mi ha sorpreso perché è un giocatore che conoscevamo, caratterialmente invece mi ha sorpreso un positivo perché è un ragazzo straordinario, è un ragazzo equilibrato, ha dato molto alla Juve, potrà dare ancora molto e di questo sono contento di quello che ha fatto e quindi veramente è stato un ottimo acquisto. Giovanni Guardalasca e Sport, visto che parlava prima della difesa 3 o 4 cambia poco, però le chiedo se ha già deciso con quali uomini, Bremer come sta, abbiamo visto anche Rugani che ha fatto bene contro l'Atalanta, in questo momento stanno a grande abbondanza lì dietro, ha già deciso? No, non ho deciso, l'unico che non gioco è sicuramente Bremer perché ha avuto un affaticamento, non mi dobbiamo andare su qual è il muscolo, però su... e quindi perché non mi ricordo, nel senso è un muscolo alto della coscia, però non è niente di che, quindi non sarà a disposizione. Gli altri stanno tutti bene, ma tutta la squadra sta bene, veramente ieri è stato un piacere vedere l'allenamento, stamattina uguale, quindi bisogna affrontare questa partita con grande entusiasmo e voglia di andarci a prendere un obiettivo che sarebbe bellissimo da poterci giocare, che è quello della finale di Budapest, però bisogna fare un passettino alla volta. Salve Ministro, in fondo, Nicola Gallo Mediapason, lei per esempio è stato al Milan, esistono squadre come il Milan, a Milanello si dice la Champions e la casa del Milan, ancora di più il Real, adesso si trova di fronte una squadra che è a suo agio nell'Europa League, è qualcosa che si può spiegare o è un caso che alcune squadre siano così di casa in determinate competizioni rispetto per esempio ai campionati? Non è che si deve spiegare, è una cosa così, però non scordiamoci che comunque la Juventus negli ultimi 9 anni, in cui si è a TME, abbiamo giocato due finali, abbiamo giocato un quarto di finale, siamo stati eliminati due volte agli ottavi di finale a tempi supplementari al 95esimo e quest'anno abbiamo raggiunto un'altra semifinale, intanto cerchiamo di fare un passettino alla volta per cercare di arrivare in finale e magari quest'anno vincerla, ma non sarà semplice perché comunque il Sevilla è una squadra molto forte. Ultima domanda e poi chiudiamo, grazie. Buonasera Ministro, Marco Vendizzi, signora Mia Calcio News, si respira aria di finale per qualche italiana, ecco questo è un motivo di più per dire in un'annata così dobbiamo fare il possibile per arrivare in finale, insomma vuole arrivare anche lei in finale, parliamoci chiaro, grazie. Noi vogliamo arrivare tutti, anche perché credo che nelle difficoltà di quest'anno la squadra si è comportata molto bene, sia a livello professionale che a livello morale, perché non è assolutamente semplice, però mancano 20 giorni che sono i giorni più importanti, quindi ora abbiamo una settimana importante che deciderà se arriveremo in finale, bisogna fare di tutto per arrivarci, poi dopo se non arriveremo in finale vuol dire che gli altri saranno molto più bravi. Per quanto riguarda poi il campionato vedremo di sistemare queste ultime quattro partite nel migliore dei modi. Grazie a tutti, buona giornata.